Giungono segnali importanti dal COBUL, Comitato per la Diffusione della Banda Ultralarga, che si è riunito a Roma presso la sede del MISE. Innanzitutto rispetto all'incentivazione della domanda. Un anno e mezz'ora sono, come Anci Piemonte, avevamo promosso un sistema di incentivazione legato a voucher a favore di famiglie, imprese e enti scolastici. Oggi questa proposta diventa realtà, è stata concretizzata nelle scorse ore e attendiamo che vi siano benefici a favore di tutti i soggetti coinvolti dalla BUL. Siamo convinti che si debba insistere sulla diffusione del piano, si debbano superare i tanti ritardi che purtroppo sono legati anche a conflitti traenti oppure a ritardi nella permissistica. Ecco, noi crediamo che la BUL debba andare avanti, ma soprattutto che debba andare avanti in maniera più spedita, perché l'obiettivo deve essere uno solo, terminare i cantieri e accendere la fibra. Ne va della credibilità di tutti noi e in generale ne va della credibilità della politica.